Un saluto amici e buona giornata. Oggi è sabato 23 aprile 2022, una giornata prefestiva, poi abbiamo anche un bel weekend, due giorni di festa insomma per quanto riguarda la festa della liberazione e la domenica, quindi noi comunque ci risentiremo poi anche lunedì prossimo. Cominciamo subito la giornata della nostra rassegna stampa a partire del Santo del Giorno, vediamo che oggi si festeggia a San Giorgio, un giorno un santo molto noto ma di cui si sa poco. In realtà si sa che visse nel III secolo sotto l'impero di Diocleziano, era un soldato valoroso, creò molte situazioni di difesa per quanto riguarda la difesa appunto dei valori cristiani, cercò di difendere i cristiani dalle persecuzioni ma cadde vittima lui stesso appunto degli soprusi, dei soldati dell'imperatore e cadde anche martire. È raffigurato spesso a cavallo mentre uccide il dragone, simbolo appunto della lotta contro il male, il San Giorgio che uccide appunto il dragone con la lancia. È il simbolo di una vera e propria lotta contro il male, dicevo, ed è molto venerato in Inghilterra. San Giorgio è un nome anche molto diffuso dalle nostre parti, comunque è un santo che rimane sempre con l'iconografia molto presente ma nebuloso per quanto riguarda la sua vita. Cercheremo appunto di saperne un po' di più. Invece per quanto riguarda la situazione del tempo e palese, vediamo che il tempo sulle Marche si sta un po' rasserenando, abbiamo uno squarcio di sereno dopo le pioggerelline, dobbiamo dire, dei giorni scorsi. Vediamo che il tempo è stabile su gran parte della regione con ampi spazi soleggiati durante il giorno. Le temperature massime salgono fino anche a 22-23 gradi, i venti spireranno sulle coste da una direzione media di sud-est così come sull'interno, le temperature però sono in calo. Il sole questa mattina è sorto alle 6.11 e tramonterà alle 20.01, le giornate si stanno sempre più allungando. Apriamo il giornale oggi sul Corriere Adriatico per rivedere le notizie di Fano e vediamo che si parla di una iniziativa a favore del commercio, in modo particolare del commercio del centro storico e della zona mare. Sì, perché l'assessore al commercio, alle attività produttive, Tiene Lucarelli, sta predisponendo una delibera per l'ampliamento dell'occupazione degli spazi pubblici. L'aveva promesso, lo sta facendo, la porterà in giunta, ha detto, il 28 aprile prossimo. Si tratta di un provvedimento particolare perché questa volta, contrariamente a quanto venuto in passato, durerà addirittura un anno, fino all'aprile del 2023. E poi interesserà anche alcuni settori del commercio che in passato ne erano stati esclusi. Vediamo il titolo, l'accoglienza tornerà a cielo aperto agli esercizi spazio pubblico doppio. C'è solo da decidere se verrà fatto pagamento, questo ampliamento, oppure gratuitamente. Ma se sarà scelta l'opzione del pagamento, quello che verrà incassato, verrà utilizzato per sostenere quelle aziende che non possono usufruire dell'ampliamento degli spazi pubblici, ma che sono ugualmente contrastate dalla crisi. E poi vediamo un episodio di cronaca, a fondo pagina del Corriere Adriatico questa mattina. C'è un motofurgone che è entrato in centro storico nella giornata di ieri, pur non essendo autorizzato, in via Rinalducci e ha danneggiato quattro auto e un balcone, poi è scappato. È stato però raggiunto dalla Polizia Municipale nella rotatoria di via Roma, quindi ha fatto pochi metri. L'autista ha dichiarato di non essersi accorto di quanto aveva fatto, ma ovviamente sarà multato. Una multa di oltre 300 euro per aver attraversato la zona a traffico limitato senza autorizzazione e soprattutto anche dovrà ripagare i danni che ha provocato. Ancora sulla pagina affanese vediamo che ieri è stato presentato, anzi, un programma molto molto intenso e qualificato di iniziative alla Rocca Malatestiana. La Rocca sarà un palcoscenico d'arte. Bello il contenitore, bello il contenuto. Per tutto l'anno verranno organizzate otto mostre di artisti di carattere locale e di carattere nazionale. Un ricco programma figurativo che è stato allestito dal direttore artistico Massimo Pugliani, presentato ieri anche dall'assessore al turismo e agli eventi Etienne Lucarelli. Si inizia oggi con Mutogenia, una mostra di Andrea Montagnana, un artista nato a Fano nel 1976 e residente a Piobico. Si avvale di un materiale particolare, di un inerte edile, che viene fornito dalla ditta Rock Colors di Cagli, un materiale con cui l'artista compone delle figurazioni astratte oppure simboliche che confluiranno anche addirittura in un grande palcoscenico che sarà allestito nello spazio aperto della Rocca sul quale poi sarà colpestabile, insomma verranno istituite delle iniziative. E poi abbiamo un'iniziativa perché sul Adriatic Link, l'elettrodotto sotterraneo che è in procinto di realizzazione da parte di Terna, è stata convocata un'altra assemblea, un altro incontro, mercoledì prossimo alle ore 19, nella sala di San Cesareo. Mercoledì scorso si è parlato del rumore prodotto dalla vecchia centrale, si cercherà di porvi rimedio magari con dei filtri se il rumore supera le misurazioni che verranno fatte appunto per controllare l'inquinamento. Invece mercoledì prossimo si parlerà proprio del nuovo insediamento della nuova centrale che dovrà trasformare la corrente alternata in corrente continua, quindi una corrente meno meno pericolosa. E ovviamente si parlerà anche di opere compensative perché i cararesi attendono delle opere che possono un po' mitigare i disagi che provocherà appunto questa nuova centrale. Passiamo a Fossombrone e vediamo come l'opposizione insorge con la voce di Gloria May che chiede trasparenza sui consulenti di giunta. È stato poi sollecitato il consiglio a tema sulla situazione dell'ospedale, una seduta monografica che dovrà fare il punto sul futuro del nosicomio di Fossombrone. E poi torniamo a Fano perché vediamo che a fondo pagina c'è un articolo che riguarda Viale Colombo. Viale Colombo è uno dei cavalcavia che dal centro storico, uno di due cavalcavia a Fano che dal centro storico conduce in zona mare. Ebbene come quello di Viale Battisti anche Viale Colombo necessita di diversi provvedimenti. Si tratta di un'asfaltatura che ormai è vecchia di 15 anni, si tratta di percorsi pedonali, insomma è poi un viale di rappresentanza quindi dovrebbe essere curato al meglio. Abbiamo qui un articolo che denuncia la situazione firmato da Andrea Amaduzzi. E veniamo ora sulla Val Cesano, facciamo un'escursione a Serra Sant'Abbondio, nelle propaggini appenniniche, e vediamo come vengono istituiti dei laboratori didattici per ritrovare la creativa, bello questo articolo, la creativa leggerezza del vivere. Sono le iniziative dei comuni di Serra Sant'Abbondio, di Frontone, che organizza corsi gratuiti e aperti a tutti. Vivere le aree interne attraverso la natura, il bosco, appunto, il verde, la tranquillità, la pace di queste zone molto molto belle, silvicoltura, alberi, eccetera, insomma, dei corsi che possono appunto far compenetrare quello che la natura rappresenta. Proprio nei giorni scorsi, proprio anzi ieri, era il giorno della terra e quindi ancora una sensibilizzazione rispetto a questo tema. Invece a San Costanzo si parla di un parcheggio allagato ai piedi del Torrione. Per la pioggia la Proloco ha revocato la passeggiata del 25 aprile su e giù per le valli, un danno dunque anche per quanto riguarda le iniziative. A Senigallia, l'impresa Fagnani lascia il cantiere. Il restyling della scuola è un vero e proprio rebus, in modo particolare ancora di più oggi, dopo l'iniziativa della ditta. Al Comune non è restato altro che contattare la ditta arrivata a seconda nella gara d'appalto per scongiurare il rischio di una incompiuta. L'impresa, che aveva in appalto i lavori, ha ritirato giovedì pomeriggio tutte le attrezzature. I lavori erano stati già sospesi da alcune settimane, poi con la speranza che l'azienda li riprendesse, invece questa ha proprio sgomberato tutto e se n'è andata e quindi bisogna correre ai ripari. E poi per quanto riguarda la festa del 25 aprile, a Senigallia tra Comune e Ampi non c'è una identità di intesa. Infatti ognuno farà le proprie manifestazioni in piazze diverse. separati alla festa del 25 aprile, intitola il Corriere Adriatico. Due celebrazioni in centro storico per ricordare la liberazione. I partigiani sono polemici con il sindaco. L'articolo sorvola un po' sulle ragioni che hanno diviso queste due posizioni, però insomma non si è trovato un accordo e quindi ognuno festeggerà per conto suo. Ed ora apriamo il giornale sulla pagina di Pesaro. Vediamo che si parla ancora della viabilità di via Fratti, sconvolta dai cantieri, oggetto di protesta da parte degli automobilisti e dei residenti. Ebbene si preannuncia una settimana di odissea, poi riapriamo la strada, hanno detto, ha detto anzi l'assessore Belloni, presente all'assemblea con i residenti. Il resto dell'intervento terminerà poi a giugno. Siamo quindi all'inizio della buona stagione. Si cerca appunto di predisporre il tutto prima che si arrivi in alta stagione, però insomma la situazione è ancora precaria e i cittadini sono in allarme. I cantieri più la bretella, attenti, si rischia il caos. Il quartiere dà l'ok alla ciclabile, ma chiede di coordinare i lavori. Si parla sempre appunto di via Fratti. Invece per quanto riguarda i provvedimenti che l'amministrazione comunale di Pesaro prende per sostenere appunto il commercio, c'è quello dei deos. Più spazio ai deos e caccia agli spazi esterni. Vigileremo sui forbetti. Hanno detto coloro che si approfittano appunto si allargano di più del consentito per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico. Già 125 sono le domande che sono affluite in comune per allestire appunto questi gazebo, questi deos. Il 60% vuole appunto le aree aggiuntive, perché si è accorto che quando c'è sole, ovviamente, il sole insomma d'estate da noi non manca, poter usufruire di spazi pubblici di tavolini all'aperto costituisce incassare di più. L'assessore spiega la possibilità riguarda il centro e la zona mare, ma non tollereremo alcun abuso, ha dichiarato. Turismo per gli under 14 scelti, sei itinerari per le gite. Un accordo tra comune e apa hotel, scoprire la capitale della cultura. Si può fare turismo anche all'interno della propria città e se ne sono accorti appunto anche gli albergatori i quali hanno così predisposto alcuni itinerari all'interno della città alla scoperta delle bellezze appunto del centro storico. Di solito i cittadini che frequentano appunto la loro città guardano le cose ma non le vedono con gli occhi del turista eppure le opere d'arte che sono presenti nella propria città spesso sono sconosciute e quindi meritano di essere visitate nel modo dovuto. Nella sfida high tech noi investiamo in ricerca e salute. Parla così il magnifico rettore della Università di Urbino, Carlo Bo, che entra nei dettagli degli ecosistema territoriali. La nostra proposta prevede una richiesta di 120 milioni di euro per le tre regioni confinanti. Insomma è l'Università di Urbino insieme poi alle altre quattro università della regione che cerca di attivare e di incentivare la ricerca e proprio la ricerca della tecnologia e la carta vincente appunto per un rilancio culturale, sociale, economico di tutto il territorio. In cerca di una storia mappa e percorso in quattro tappe per la strada della liberazione. Ed ora parliamo delle 25 aprile della festa della liberazione che assume un valore importante, particolare quest'anno per quanto riguarda quello che sta accadendo in Ucraina. In questo caso è il Presidente Perugini che evidenzia una modalità per far conoscere l'identità e le radici dei nostri luoghi. Di cosa si tratta? In realtà è l'AMPI che ha organizzato una mappa ideata appunto dall'Associazione disegnata dalla mano sapiente di Alessandro Baronciani. Una mappa che articola quattro percorsi dentro la città. Sono particolarmente lieto di presentare questo progetto di fronte ai ragazzi della scuola Leopardi, ha dichiarato il Presidente Marco Perugini, Presidente del Consiglio Comunale. Questa mappa è uno strumento prezioso che in quattro percorsi mette in luce il passato è la memoria di Pesaro, permettendo di viverli con consapevolezza e spirito critico, fondamentali dal momento che a poca distanza da noi si sta consumando un nuovo cruento conflitto. Insomma, l'intesa, l'attenzione è rivolta, sì, nella nostra località, perché anche noi abbiamo, anche i nostri padri, i nostri nonni, hanno sofferto la guerra, ma quello che sta accadendo è un monito per tutto il mondo. Sulla Valle Foglia si parla del cavallo del Catria, una risorsa, l'allevamento di questo animale nelle pendici preapenniniche, la montagna può rinascere. Al Via Sabato la fiera di primavera di Cantiano e vengono predisposti anche aiuti dalla Regione. E per quanto riguarda Urbino, vietato accorpare le scuole, si farà morire il Montefeltro e una presa di posizione di Urbino capoluogo alla Regione e al Ministero contro la volontà del dirigente. Insomma, ci si oppone alla chiusura delle scuole in alcuni centri, come Borgo Pace, come Monte Grimano e Borgo Pace, che hanno appunto preso gli studenti da altre località e devono percorrere, abbiamo visto nei giorni scorsi, tanti chilometri per poi raggiungere la scuola. Non si può chiudere la scuola, anche se gli studenti sono pochi. Insomma, è una risorsa culturale, importante, economica, sociale, di ogni piccolo centro. Ed ora diamo un'occhiata al resto del Carlino. Vediamo che la pagina di Fano apre con una notizia che riguarda il cimitero centrale, quello di Via Giustizia. Ieri c'è stata una sorpresa per coloro che volevano entrare al cimitero per portare un fiore, dire una preghiera in suffragio dei loro defunti. Ebbene, hanno trovato il cancello chiuso per tutta la mattinata. Che cosa era accaduto? Era accaduto che un blackout elettrico aveva impedito l'apertura del cancello, dato che questo è possibile farlo soltanto appunto con l'energia elettrica. Ci è stata tutta la mattinata, ci è voluta tutta la mattinata per riparare il guasto e molta gente è rimasta a sorpresa. Si tratta di un guasto dell'Enel, ha dichiarato l'assessore competente Sara Succhiarini. Da questa mattina, cioè da ieri, non c'è luce in tutta la zona. Enel sta tentando da ore di risolvere la cosa, ma ancora non ci sono riusciti, ha dichiarato al giornale nella giornata di ieri. E poi a fondo pagina vediamo le iniziative della Rocca. La Rocca spalanca le sue porte, otto mostre con i contemporanei. Si parte oggi pomeriggio alle ore 18 con l'inaugurazione di Mutogenia. Qua abbiamo tante altre iniziative artistiche che si svolgeranno durante l'anno fino a settembre e ottobre. E poi ancora si parla della ciclabile dell'Arzilla, un'opera che non finisce mai di destare delle proteste. Perché l'amministrazione comunale continua a perseguire il suo progetto, anzi ha già iniziato i lavori. Lavori che secondo gli ambientalisti sconvolgono tutto il territorio naturalistico di questo torrente che ancora mantiene la sua connotazione naturale, però in realtà si va avanti e si distrugge. E qui vediamo una foto significativa di quello che si sta spianando portando via arbusti, alberi, insomma cose del genere con grande rammarico di chi ama la natura. E poi l'articolo che riguarda l'Adriatic Link e la convocazione di un nuovo incontro mercoledì 27 aprile alle ore 19 a casa Bethlehem a San Cesareo, la società presenterà un'opera all'avanguardia per tecnologia e sostenibilità. Ecco, è importante questa ultima parola, sostenibilità, perché appunto i residenti non vorrebbero che oltre alla centrale che produce ovviamente ovvi disturbi, se ne aggiungessero anche altri. E poi vediamo di un lutto, di un lutto di un personaggio molto amato e molto noto in tutto il territorio. Si tratta di Don Araldo Angeloni, lutto nel clero fanese. Fu lo storico parroco di San Lorenzo in campo dal 1967 al 1995. Si è spento ieri all'età di 98 anni alla casa del clero di Fano, dove risiedeva da tempo Don Araldo Angeloni, parroco di San Lorenzo in campo, appunto nato a Pergola. Il primo aprile del 24, Don Araldo venne ordinato sacerdote nel 1947. Da allora è stato sempre una figura di riferimento per tutta la valle del Cesano e non solo di San Lorenzo in campo. A Pergola arriva uno strumento high-tech per la chirurgia, la tecnologia laser della branca medica che riguarda il colon retto. Al momento è l'unico ospedale pubblico in regione ad esserne dotato. Quindi uno strumento importante per tutti coloro che soffrono appunto delle patologie che riguardano il colon retto. E sappiamo come purtroppo questa zona del corpo umano è molto soggetta ai tumori. Uno degli aspetti fondamentali del nuovo dispositivo laser, evidenzia il giornale, sarà utilizzato principalmente per tutte le adesso non voglio entrare nei particolari ma insomma si tratta poi di malattie tipo emorroidi insomma tutte quelle cose che capitano un po' nel retto il coccige e via dicendo insomma però sono importanti e debbono essere curate con grande grande attenzione quindi un dispositivo questo che qualifica la sanità anche dell'entroterra. Pasqua Urbino fa il boom con i turisti centro preso d'assalto l'assessore Cioppi siamo sotto la lente contatti giusti con Stati Uniti e Costa Azzurra sia in Italia che all'estero. Per quest'estate si prevede un afflusso considerevole in modo particolare di turisti italiani ma in questo caso vediamo che anche i turisti provenienti dall'estero non mancano e la città di Urbino con Raffaello con il Duca Federico quest'anno poi c'è anche l'anniversario del Duca Federico non manca di attrarre turisti anche stranieri. La festa della liberazione ad Urbino finalmente con il corteo Urbino torna alla normalità sfilata interventi poi il concerto al collegio Raffaello e Parchiule ritrovo davanti al monumento che ricorda il sacrificio dei partigiani. Per quanto riguarda appunto il 25 aprile si svolgono iniziative che commemorano i partigiani caduti durante l'ultima guerra un po' in tutti i centri della provincia nella nostra provincia passava la linea gotica quindi c'è stato dei grandi terribili drammatici avvenimenti che appunto caratterizzarono quelle battaglie e quindi oggi si commemorano questi avvenimenti su quell'autovelox farò una interrogazione si parla dell'autovelox che è stato istituito a Cagli e che fa strage di automobilisti a intervenire in questo modo è il deputato della Lega Luca Paolini è l'autovelox che ha stangato migliaia di automobilisti lo vedete qui in questa fotografia Paolini si pone contro il dispositivo installato dal comune sulla Flaminia già la postazione contestabile ha dichiarato sarebbero altri punti pericolosi dal resto Paolini oltre a essere un parlamentare è anche un avvocato e quindi un po' si appiglierà alle disposizioni di legge Uomini che parlano ai cavalli si rievoca un po' un noto film e molto altro è la fiera di Cantiano il 30 aprile e il primo maggio la tradizionale Kermesse poi fatta di gare di tipicità e proposte per valorizzare l'animale e anche l'allevamento dell'entroterra sulla pagina di Pesaro il resto del Carlino evidenzia la soluzione speriamo che sia veramente così del problema che attanagliava una ragazza ucraina che è sofferente di diabete che non trovava le cure adatte alla sua patologia in realtà una soluzione c'è stata svolta per la profuga di 12 anni potrà curare il diabete in città è stato raccolto l'appello per Margherita lanciata ieri sul Carlino dopo la mobilitazione dei volontari martedì avremo i macchinari direttamente a Pesaro e questo renderà tutto meno complicato hanno dichiarato i sanitari io presidente dell'Ampi non ci sto sull'Ucraina parole agghiaccianti parla così Francesco Delbianco 35 anni che guida la sezione provinciale dell'Associazione Partigiani e sulla polemica che ha travolto il leader nazionale non ha dubbi comunicazione sbagliata l'Ampi condanna fermamente il massacro di Bucca in attesa di una commissione di inchiesta internazionale guidata dall'ONU insomma dichiarazioni controverse allarme i lavori pubblici e i progetti del PNR a Pesaro il sindaco Ricci è evidente che molte ditte preferiscono impegnarsi sul restauro delle facciate il super bonus del 110% e disertano un po' i lavori pubblici serve una soluzione è stato questo appunto l'appello del sindaco Ricci ed era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento a lunedì prossimo per la rassegna stampa intanto vi auguro un buon weekend e un buon 25 aprile questo è tutto a risentirci grazie a tutti Grazie.